Parte con il piede giusto il 2024 del Notaresco che batte 3-2 in Roma City, ma procediamo con ordine. La sfida tra Abruzzese e Capitolini si presenta interessante con il sogno play-off alla portata di entrambe, ma tutto passa dal Savini. Solito 3-4-2-1 per Alessandro Bruno che vuole festeggiare la nascita del secondo genito Gabriele. Sul fronte mercato in settimana hanno salutato Barzanti, Antezze e Zugaro. Tre pali preso Tomas Calore dalla folgore del Finocuri Pescara. Assenti Bonfiglio e Di Bartolo per il riacutizzarsi di alcuni problemi fisici. A Genore Maurizzi deve cambiare a causa dei tanti indisponibili nel reparto arretrato. Capitan Codromazza su tutti. Solita difesa a tre dunque con Trasciani, Fradella e Capece centrali. Cinque elementi sulla linea mediana con il compito di rifornire il tandem exteramo di Renzo Sparacello. Dirige Luca Tuderti di Reggio Emilia. La prima occasione del match in favore del Roma City, pennellata dalla destra di Ascoli per l'incornata di Bonello che scheggia la traversa. Al dodicesimo la sblocca il notaresco con Capitan Pietrantonio che sulla sinistra trova un'autostrada e la sfrutta alla perfezione e Bucando dichiara. La rete tramortisce gli ospiti. Scipioni si intrufo Linare e viene atterrato da Fradella per Tuderti e calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Belloni che incrocia forte e fa 2-0. Il Roma City non demorde e al ventisesimo trova l'episodio per riaprire la contesa. Bonello finisce a terra dopo un contatto con Marrancone e Tuderti assegna il penalty. Dal dischetto Sparacello è freddo e batte Curtosi. Al trentottesimo ancora pericolosi Capitolini con il secondo legno di giornata. Di Renzo prova a sfondare, il pallone finisce sulla sinistra nella zona di Diniz che lascia partire un diagonale preciso che viene ribattuto dal palo. Sulla respinta di Renzo in posizione di fuorigioco. Dopo la paura il notaresco trova il 3-1. Sulli sviluppi di un corner calciato da Pietrantonio sbuca Pulsoni che si aggiusta la sfera e scarica alle spalle di Di Chiara. Con le immagini di mano il centurame passiamo alla ripresa che si apre con il terzo legno di giornata complessivo. Stavolta è il Roma City a beneficiare dell'aiuto della deabbendata. Pietrantonio recupera un ottimo pallone e serve Scipioni che complice una deviazione trova l'incrocio. Al decimo proteste il Roma City per un presunto tocco di mano all'interno dell'area non ravvisato dalla terna emiliana. Nell'occasione il tecnico Maurizio viene ammonito per proteste. Al dodicesimo è Di Renzo a chiedere il penalti con ampi gesti ancora per un presunto tocco di braccio. Sull'altro versante Scipioni prepara la conclusione ma manda altissimo. Sempre il numero 10 ci prova il 26esimo. Stavolta fa meglio ma Di Chiara si distende e manda in angolo. Il Roma City si regala il finale perché al trentottesimo Di Renzo è il più lesto di tutti dopo la respinta del terzo palo di giornata e in sacca il 2-3. Nel finale dopo l'ottimo lavoro di Ingretolli prima e di Renzo poi Vasco si coordina ma trova una deviazione provvidenziale. Al quarantottesimo Tiam si invola verso la porta. Intervento così così ma efficace di Curtosi. Non succede più nulla. Al Savini il notaresco batte 3-2 il Roma City e aggancia i Capitolini al settimo posto.